Il pisello guarda com'è bello, l'ho toccato e diventato grandicello e il pisello... Ehi, guarda che io sto registrando eh! Ops! Ciao a tutti ragazzi da Scoppiardware, qui sono Nocola e Pingu che si soffia e nato mentre facciamo i saluti. Benvenuti a questo nuovo video, siamo all'episodio number 7. Nella spesa... Puppa mi... Puppa operativa di Portal 2 E benvenne eravamo rimasti qua dove Pingu salta nei raggi... Sembrava pagliando anche dove cacchio mettere il portale... Adesso io provo a farlo mori... C'è... Che cacchio fai? Ti stavo per mettere il portale per bene! Porcocane! Ti ti testa di minchia devi mettere uno là, poi ti metto quello qua... E' un altro là, e te ne vai a fare in culo da qualche parte che non so dov'è... Ma guarda come si fa, guarda ti insegno io, si fa qua... Vai, vai, vieni, utile! Non devo saltare! Tutti sull'aristano, io! Oh my god! Ecc... Buttati sull'aristina, sa sentire Pingu! Poceball Wolfard... Sono un scemo devi buttarti qui sotto... Dove vai? Ma dove vai? Aspetta Начale, il AWK buppu haft al Tam本 Ok, buttiamoci qua sotto Siamo insieme alla Massa che ci va vai io che che cazzo vien a fa Che cappato del tumore di qua sotto Tu devi prendermi il cubo Il culo di devi prendere Aspetta... Aiuto, bingo bingo 있는데 auto ok e dove c'è il suo gruppo non ne ho idea se poi ah ecco così la mia si ma si metti la limba l'amore allo messa così il cubo va vola dall'altra parte ma deficiente volte il cubo deve arrivare lì dove se c'è lo so il che vuole di che cosa è il non so ma per me lo riporti schiavo cani da riporto e vai stiave e se ti mo ho volato a lasciare il cubo ma non è successo nulla opa pino quei e il sex pino parti su fuori vabbè occo un po' di lunghe messi il ragionatore della serigio è che la scoreggia della serigio ammetti un po' di portali l'altro lo vuoi nel culo che ne so e per te per controllare che no ad andare c'è un piccolo bisogna farlo a quattro deve andare lì quindi boh trova il modo e metti un altro portale vediamo vedi torna indietro dov'è tornato devi farlo tornare in modo che torni no no devi farlo dico per favore la sopra ho capito dosi stronti no ma non è che l'hai messo sotto sotto no lo puoi fare so bisogna farlo a 4 per favore portano a che si fa acqua e quello che volevo fare metto portare lì e risposta è la del più in mano un po' di base e come fa la cosa mi fa entrare il laser lì dentro per favore lì nel coso blu spostando il tuo giallo caro io credo per me non so come un giallo posto rosso no ho sbagliato tv no 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 aspetta spero sbagliato direzze direzioni no però se faccio così ancora sbagliata però aspetta se io faccio così indirizzami il bene d'acqua no indirizzamelo la se c'è la fai c'è la fai del sacro ma non so cammini sui merita minchia non è mai capito un cazzo annorale è bravo bravismo brava 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 bravo stevenia bravo bravo io penso di d infatti sì come ci arriviamo adesso la sopra il tesoro non rompermi coglioni io so già dove mettere i portali ci arriviamo io faccio di tunnel di luce si meno di me è anche un'altra cosa di come deve stare un bel di luce e non rompermi pene come mi ci butto il pubblico mi dice come ci vuoi buttare come ci siamo buttato io prima no ah ma da sotto ma dire che è tutto il tunnel porca miseria dai cazzo andiamo ai deseri problemi ma quasi quasi lo disattivo ti faccio cadere nel vuoto perché sei un'altra cosa non fare coglione non fare coglione non fare coglione ecco il cuore sei un idiota lorenzo perchè guarda perchè sei un idiota ma vabbè ma noi siamo ancora più intelligenti l'abbiamo fatto fare in diagonale che tu basta se lo metti il tuo un'altra cosa via è un pochino power guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì via si lo facciamo per irritare si ritroviamo tutti come fu un robot di casa non so come fa a a mordersi la lingua via e soprattutto come fa a chiamarsi penis body se come fa a chiamarsi a mordersi cost cost il punto è le pistole di portai nei culi degli altri su tutto abbiamo andato a mandi 0 5 fino a che punto conosce davvero brutti figli di lui no 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 so il risucchio quello che te lo succhia no risultati tutti via no non attivare il risultato ecco madonna che cosa brutta dovevo dire così tipo non attivare non attivare non lo ris Nicola guarda guarda come divertente no no devo andare avanti dai che guardi e questi qua stanno mettendo 80 episodi fino alla cooperativa di portal si perchè io devo giocare con un deficiente porca miseria basta per me il cazzo aiutami il cubo dammi il cubo non il culo il culo non me lo devi dare il culo il culo al posto del cubo e il succhia c'è un po' per me ho detto di succhia dopo aver detto succhia aspetta cosa abbiamo risolto in questo momento quanti in pino si si crepa e penso che no 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 ok ok non ho capito dai pigastro e' stupido io dove lo metto lo devi lasciare andare nel raggio blu come si fa per farlo con la rimbalzina forse per esempio ecco ciao cubo via andiamo no devo guardare il cubo che cubetti cubici guarda come passa guarda lì che roba via buonasera 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 si ma è dentro del 5 mila grados come blu non è vero ma hai detto che ero io ma hai detto che ero io il suo preferito non è vero sei una mignota sei un puttano sei una mignota 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 scoda mignota via la scoda la scala migliora e via di pubblicità occulta idea ci pagano adesso domani siamo famosi canale di questo video sono giocato per violazione di quello di costruzione che è perché metti la casa divertente aspetta cosa succede quando c'erano che non la parola massimo la cosa più profonda casa premi vai muovi no a napoli più che pigia si dice in casa vai in casa in casa su cazzo ah nico ti ricordi la che e ti ricordi la ti ricordi la ti ricordi che non devi andarci la sei morto addio ma cazzo pico 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 ahahahah non c'era un risucchio no no non c'era ma come se sei se sei esperto non sai se sei se sei che te lo faccio io almeno così perché è la visuale più mettiamo i portali nel culo e genitali no no adesso come come i muri ahahah ahahah devi andare di sopra ahahah no non sbaglio ciccio ma di sopra vai sì e io adesso come faccio devi aspettare cosa disattivi delle cose ok facciamo finta di aver capito non è vero dicendo tutto eh non è vero lo senso cacchio fai non lo so dove sei non lo so di mani no ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato buttati buttati che morbido aspetta 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 like a poco ieri yeah ciao sono le tante canali sono le scuole no 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 basta ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato appena ricordato di una cosa qualcuno ha preso il timer per il video io sì ok era convinto che ne stavo manco pigliando il tempo bene vabbè tempo quanto pensi che sia passato tieni il tempo non ho idea non ho idea il tempo che ne sono non non so quelle le passate che ne so tanto secondo se quanto è passato se non lo so sono passati 3 milioni di ore via quarta che si deve avere avanti e che il rutto è stato stato il propulsore del volo per vada da rischiare di muoio vabbè cosa bisogna fare qua guardare se mi butto qua cosa succede me lo so boh mi schianto contro muro che è il tuo amata c'è un botone con un voto non ci arrivo non vuoi fare maron ruo carmine chi ma provare che c'è un padre che devo fare vieni 4 e vieni 4 non mi piace venire da dici c'è nico dentro metti per farlo aspetti che hai detto ti vedi vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua dentro vieni qua dentro si ah ti aspetto dove o come lo faccio a mettere l'altro portale idiota qua idiota ah hai ragione e non premere ah si premi giusto ci sono premi 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 che palle senti eh vedi di cagapo con la micchia perché ti mando a napoli a calci in culo io sono già napoli deficiente 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 centipendici ho vedere che mi lascia il botone questo faccio crepare ma tanto che c'è stato al fatto al sicuro quindi ma di metri un portale la e quello viola si vai battele da lì sicuro e come me ne vado scusa se si si dava il raggio a noi detto una cazzata bene buco oddio oddio ok cosa vittorio bingo ehm ho fatto un gioco vedi che c'è un cubo lì c'è un cubo lì c'è un cubo lì da qualche parte no 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 che cazzo fatto no sbagliare un tasco aspetta da controllo cosa vittorio visuale in basso a destra potete vedere le minchiate che fa ping in questo momento indietro come me ne vado da qui adesso ahahah 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 perché non sei morto voglio vederti morire era bello che non morivi mentre dicevi io devo vedere poi morivi con un deficiente per te oh 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 voleva mettere zizzania a lei se è zizzania dove è so zizzania eh vengo lo sa che chiunque chiunque dice agli altri di aver un c'è accusa gli altri di aver un pene piccolo a un pene piccolo e lo sa che chiunque afferma accusa gli altri di accusare gli altri di avere un pene piccolo ha un pene piccolo ma lo sai che accusa gli altri che accusa gli altri che accusa gli altri di aver un benedicolo ha un pene piccolo lo sai che il tempo è finito eh infatti bene amici ehm cari amici di scoppiarder dopo questa cari amici ma come ti fa essere amico cari amici di scoppiarder benvenuti ad una nuova televisione di emi perché io sono giorgio mastrota no cioè volevo dire ehm purtroppo dopo questa inesima mincata il tempo è pulito io dico per fare quindi per fortuna purtroppo dove sei del termine di filo quindi se il video mi è piaciuto mettete mi piace mi iscrivetevi al canale e viva pingu sono mi è piaciuto non mi piace e viva pingu e viva pingu ciao 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 ciao